Torna anche quest'anno Sail Camp, un importante progetto di riabilitazione psicologica promosso da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. L'iniziativa è rivolta a pazienti oncoematologici di tutta Italia e sarà strutturata con delle giornate di velaterapia, con lo scopo di aiutare i pazienti a ritrovare un equilibrio psicofisico, supportati da un team multidisciplinare composto da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti. Il progetto compie quest'anno vent'anni e in occasione della conferenza stampa di presentazione che si è svolta a Brescia abbiamo incontrato il dottor Giuseppe Navoni, presidente AIL Brescia e vicepresidente nazionale AIL, che ci ha parlato dell'importanza di questa esperienza. Se il camp compie vent'anni, che bilancio si può fare di questo progetto così innovativo? Un progetto innovativo perché coinvolge malati che provengono un po' da tutta Italia e usufruiranno di questa sede, di questa location straordinaria che è l'Univela di Campione del Garda, nel parco dell'Alto Garda, un luogo dal punto di vista ambientale straordinario con la presenza di vento costante sia la mattina che il pomeriggio e possono fare questa esperienza con la velaterapia che agisce riabilitando veramente i pazienti nel campo coordinato dalle nostre psicologhe che quindi seguiranno con dei laboratori tutti gli aspetti dei pazienti e non sarà solo relegato alla vela ma ci sarà anche la possibilità di uscire in canoa, la possibilità di fare trekking e la possibilità di fare tecniche di rilassamento ma poi la cosa importante a cui tenevo molto è anche un momento di formazione nutrizionale perché l'alimentazione e salute è importante sia per coloro che escono dalle strutture ospedaliere ma anche per riabituarsi a casa a mangiare correttamente, un discorso educazionale che vale un po' per tutta la popolazione e noi come AIL teniamo molto che sport e salute, ambiente salute, riabilitazione psicologica eccetera siano collegate tra di loro perché tutto favorisce un ambiente migliore, meno malattie e noi che curiamo malati, tumori del sangue non possiamo dimenticare che in un ambiente non sano peggiora la situazione, l'alimentazione non sana peggiora le condizioni fisiche e di salute portando anche altre malattie che se magari si aggiungono o complicano un percorso già difficile per i tumori del sangue o per qualsiasi altra neoplasia. Come reagiscono i pazienti che vi partecipano? I pazienti reagiscono con un entusiasmo straordinario perché hanno questo momento di condivisione anche con altri pazienti e provano delle sensazioni, delle emozioni che magari nella loro vita non hanno mai avuto e a questo punto danno delle motivazioni di dire ma insomma alla fine è bello anche vivere quindi dobbiamo lottare di più, dobbiamo riuscire a vincere la malattia. In più la sensazione di timonare un'imbarcazione dove chi sta al timone dà gli ordini, dà gli ordini all'equipaggio, è importantissimo perché ribaltano i ruoli. In ospedale i malati erano sempre costretti ad obbedire, obbedire ai medici, agli infermieri, al personale sanitario. Lì invece è il contrario, il malato è lui che dirige l'imbarcazione ma soprattutto prendere in mano il timone, vuol dire prendere in mano il timone della propria esistenza, della propria vita, ritornare a avere la voglia di vivere e quello che riscontriamo non solo dagli studi fatti dai nostri psicologhi ma anche proprio dai colloqui con i pazienti è un'avventura straordinaria e dicono ma non avevo mai pensato e magari gente che abita anche al mare che il nostro mare possa dare, o i nostri laghi, queste opportunità fantastiche. Chiudiamo con i medici. Cosa pensano di questa manifestazione, di questa possibilità e come ritrovano i pazienti dopo queste esperienze? I medici sono molto contenti, anzi partecipano al camp perché è sempre presente un medico oltre che un infermiere per quanto riguarda i campi ma anche per quanto riguarda il progetto Itaca sui laghi e al mare che partirà da Genova tra poco con Insognando Itaca e si concluderà ridosso della giornata nazionale ematologica del 21 giugno. Il riscontro è buono, è ottimo, sono più sereni i pazienti e partecipano con grande entusiasmo. Questo facilita anche il proseguimento delle cure perché è un malato motivato che ha voglia di guarire, ha voglia di lottare, risponde meglio anche alle terapie rispetto a chi invece si rassegna e dice no ormai abbandono a quello che sarà. No, i malati devono continuare a lottare, noi dobbiamo essere vicini a loro con tutti gli strumenti possibili utilizzando anche la natura, i nostri laghi, i nostri mari, tutto il nostro personale, i nostri volontari. Questa è questa collaborazione, questa è solidarietà autentica e grazie alla disponibilità di circoli velici, di skipper che mette a disposizione le loro imbarcazioni e tutto è la vera novità, la vera unione che fa la forza a fianco dei malati che non si sentono soli perché la solitudine è un altro elemento drammatico. Il malato si sente solo mentre invece deve sapere che ci sono tante persone che sono al suo fianco e lo aiuteranno a ritornare alla vita. Il malato si sente solo